Innanzitutto perché in questo periodo e soprattutto perché c'è questo trend di crescita degli incidenti in quota a Perilli? Allora, il problema sta diventando sempre più grave, devo dire. Purtroppo negli ultimi anni gli incendi in montagna piuttosto che diminuire sono aumentati, ma quello che fa soprattutto pensare è che sono aumentati anche il numero dei morti e dei decessi. Adesso stiamo arrivando a un periodo che è quello più delicato di tutto l'anno, perché in montagna la notte è freddo, spesso è nevicato anche nei giorni scorsi, quindi c'è un po' di neve, si forma uno strato che si chiama vetrato in termini tecnico, cioè l'acqua che gela sui sassi e se non c'è un occhio allenato non si vede, quindi basta poggiare il piede e si scivola via. I cambiamenti del tempo sono molto repentini, quindi anche se la mattina il tempo è bello, nel primo pomeriggio il tempo tendenzialmente tende a cambiare, si può incorrere anche in temporali o nevicata addirittura. Quindi quello che raccomando sempre è che in montagna bisogna andarci preparati, perché andare in montagna è sicuramente un'attività pericolosa, e il pericolo si abbassa, il rischio si abbassa con la preparazione, la formazione e anche il buonsenso, perché ognuno di noi dovrebbe conoscere i propri limiti, perché in montagna purtroppo, come abbiamo visto nell'ultimo mese, dove abbiamo avuto sei morti, in montagna si rischia la vita, quindi bisogna fare molta attenzione perché il rischio sta dietro l'angolo, anche se dietro più facile può nascondere delle insidie che possono provocare la morte. Quello che bisogna stare attenti è che quando si va in montagna le previsioni meteo sono fondamentali, non si può andare all'avventura, non si può partire a mezzogiorno per andare a fare un'escursione. Io quest'estate ho visto tanta gente che improvvisa in giro, ma tantissima, in montagna improvvisare è uguale pericolo, quindi raccomando sempre, torno a ripetere, ormai penso che sia diventato monotono a ripetere sempre le stesse cose, perché noi, è chiaro, noi facciamo soccorso e purtroppo arriviamo quando il fatto è già accaduto, però bisogna fare tanta prevenzione, io infatti dico sempre che anche gli entici dovrebbero aiutare in questo, a vario titolo, perché con l'informazione riusciamo a trasmettere questo messaggio di prudenza. In montagna sì, perché noi abbiamo nelle montagne, abbiamo un territorio che è splendido, tutti ci invigliano, però purtroppo bisogna andarci nel giusto modo.